Santuario abbaziale di Santa Maria del Casale Negli ultimi anni dell'undicesimo secolo, sui luderi di un antico cenobio basiliano, i conti normanni Emna e Rodolfo Maccabeo costruirono questo tempio in località Casale di Pisticci, sul Monte Corvo, affidandolo poi ai monaci benedettini di Taranto Questa abbazia ha uno stile romanico pugliese con un portale e un rosone centrale L'interno è a tre navate, con tetto ligneo, a capriate, colonne squadrate, reggenti archi ogivali, arco santo centrale e finestre monofore che si aprono nelle pareti con arco a tutto sesto Il bellissimo portale risalente al 1200, anch'esso ogivale, sormontato da tre fasce di foglie di acanto spinoso, presenta l'arco interno sostenuto da due colonne laterali Con capitelli che riproducono figure animali L'abbazia conserva una pregevole statua linea della Madonna della Sanità del Settecento e un'icona greca in ricordo del rito greco bizantino Attualmente sono in corso ancora dei lavori di ricostruzione della vecchia abbazia benedettina e del campanile Adiacente è ubicato il cimitero del paese Al prossimo episodio